Veneri, ma la fai in novembre, l'ho fatta adesso. Il novembre è troppo forte. La voce sopra, quando cazzo la fai, cazzo la fai. Guarda che impianto è tese forte. Sì, infatti è stata una bomba. Sì, infatti è stata una bomba. Sì, infatti è stata una bomba. Sì, infatti è stata una bomba.